Ciao a tutti, questo è il terzo video di quelli che mi erano stati richiesti a dicembre 2015 su Instagram. Buona visione! Buongiorno a tutti, sono Naike e bentornati nel mio canale. Oggi farò la recensione di un libro che adoro moltissimo, cioè Fahrenheit 451 di Ray Redbury. Questo libro l'ho già sentito nel 2001 o due volte in passato ma non mi ero mai interessato, fino a che appunto sentendo un po' la trama di lui mi ha incuriosito e quindi ho deciso di prenderlo e veramente consigliatissimo. Ray Redbury è uno scrittore statunitense che ha pubblicato questo romanzo nel 1953 in Italia viene pubblicato soltanto a partire dal 1956 dalla Mondadori. Questo in particolare è l'edizione Oscar Mondadori del 2010 che ha 184 pagine e costa 12,90 euro. I protagonisti principali di questa storia sono i pompieri, la società e i libri. Redbury è ambientato in un imprecisato futuro, possediore al 1960 e Redbury ha scelto come titolo Fahrenheit 451 perché pensava che fosse la temperatura di combustione della carta. In realtà si è poi scoperto dopo che la temperatura di combustione della carta varia dal tipo e dallo spessore appunto della carta. In una notte del tardo 1949 incontrò un poliziotto che ispirò il protagonista principale del suo romanzo ed è proprio partire più o meno da quell'anno lì che comincerò a lavorare sulla stesura di questo romanzo che prima sarà intitolato The Pedestrian, poi divenne The Fireman e infine Fahrenheit 451. Da giovane assistette al periodo d'oro della radio e poi in concomitanza più o meno con la stesura di questo romanzo inizia il periodo d'oro della televisione. Lui vedeva questi mezzi come una rovina perché distraevano, aspettate che leggo bene perché me lo sono segnata, perché potevano essere una distrazione da questioni più importanti. Il romanzo rientra nel genere della fantascienza sociologica che vuole rappresentare i rischi di una società dispotica. Secondo alcuni critici l'autore voleva rappresentare come era la società macartistica degli Stati Uniti. Il macartismo è un periodo storico degli Stati Uniti che si considera concluso nel 1954 in cui si aveva paura delle influenze comuniste. Secondo altri critici invece voleva semplicemente descrivere una società dispotica cresciuta all'ombra di cervellotici macchiavellismi. Ci sono inoltre delle analogie tra Fahrenheit 451 e altri due romanzi. Un romanzo è il di Aldous Huxley e il loro romanzo in questione è Il mondo nuovo. In entrambi i casi l'attenzione viene focalizzata sul... In entrambi i casi le persone non controllano l'operato del governo perché c'è quasi un'imposizione al consumismo di massa in cui il focus viene messo sull'apparenza, sull'apparire, su essere comunque vissi in un certo modo e la felicità non è reale ma è soltanto apparente. E ci sono alcuni casi di depressione. Ci sono poi delle analogie con un romanzo che si chiama Il mondo nuovo di... aspettate... Giorgio Orwell. In entrambi c'è una denuncia più o meno esplicita alle autorità. E queste denunce possono essere... riguardare fatti veramente accaduti oppure no. E in entrambi c'è anche la censura perché appunto in Fahrenheit 451 il governo censura i libri. La differenza di Fahrenheit 451 con gli altri due romanzi è che comunque Redbury lascia un finale aperto verso una nuova speranza. Nel 1966 è stato anche tratto un film da Fahrenheit 451 diretto da François Truffaut e con Oscar Werner nella parte del protagonista. Io l'ho scoperto da pochissimo, l'ho scoperto soltanto la settimana scorsa questo libro e me ne sono letteralmente innamorata e mentre lo leggevo riflettevo sul fatto che io non potrei assolutamente vivere in un mondo del genere. si vede che però in questo romanzo ci sono comunque delle persone che amano leggere e che preservano la cultura e secondo me fa riflettere perché alcune cose si possono già riscontrare nella società di oggi. quindi ve lo consiglio vivamente perché secondo me è veramente stupendo. Poi io non ho letto nient'altro di Redbury ma il suo stile di scrittura mi è piaciuto moltissimo qui quindi cercherò di leggere altre sue opere perché veramente mi è piaciuto tantissimo. Questo era tutto se vi è piaciuto lasciatemi un commento e un like e condividi. Questo è tutto noi ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao!